Salve a tutti ragazzi, questo è l'IPC Show. Io sono Leonardo e io sono Dr. Liam e oggi siamo in questo nuovo video che tratterà del mondo delle abbreviazioni, chiamato anche il mondo dei bimbi minchia. Ed ecco a voi la nuova sigla. Ormai nel 2014 siamo circondati, immersi nei bimbi minchia, che usano parole del tipo TVB, TVMDB, GMQ, NLL, cose così. Ormai non c'è più speranza per questi ragazzi o ragazze, che diciamo la verità tutti l'abbiamo fatta, l'ho fatta anch'io, l'ho fatta anche lui, l'ho fatta attualmente, l'ha fatto, anche tu che stai guardando questo video. Che cazzo fai? Bene, dopo la grande scatarrata di Leonardo, ecco un piccolo esempio. Cioè, dovete capire che non si può, che non si può cambiare le parole. Cioè la C e la H con la K, perché la H e la K non c'entrano un cazzo. Magari si, K, 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 ma poi non... La K e la H hanno una visione sociale. Non sono compatibili, ognuno sta a casa sua e devono stare poi sempre a casa loro. Non le mettete accanto, per favore. Perché sennò si scannano. Poveracci. Adesso parlando del fattore bimbi minchia. Ma aspettate, se voi scrivete la C e l'H con la K, chiudetete il video. Oppure se volete lasciatelo, forse è meglio, sì. Briderete molto, molto. Quelli che scrivono i tre commenti di video di YouTube, primo. Scenetta. Vediamo se Danny ne ha dato il matter e ha caricato un nuovo video. Si ne ha caricato, nessuna visualizzazione. Andiamo su primi, andiamo su primi. Primo, primo, tre... Bene, il video di oggi ci conclude qui. E adesso è il momento della domanda comica. La domanda è... Da anni si continua a giocare a Celai. Ma Celai cosa? Scrivetelo qua sotto. Scrivete la risposta, ovviamente. Qua sotto, nei commenti. E per oggi è tutto. Però, prima, un utente, un iscritto nostro, ci ha chiesto di salutarlo in un video. Ed è abbastanza strano. Quindi, saluto Federico Bernazzi. Salutiamo Federico Bernazzi. Salutiamo Federico Bernazzi. Ciao Federico. E adesso il video ci conclude qui. Alla prossima puntata. Ma, prima di chiudere il video, ragazzi, siccome siamo a 40 iscritti, vi prego, 41 iscritti, noi, se raggiungeremo i 50 iscritti, faremo uno speciale fighissimo. Quindi, spargete la voce, ditela a tutti i vostri amici, di iscriverti al nostro canale, ovviamente. Spammate in... No, spammare no. Ovviamente se voglio, non li obbligate, neanche noi obblighiamo voi. Però vi prego, aiutateci voi a raggiungere i 50 iscritti. Che non ve ne pentirete, veramente. Anche tu, adesso, che stai guardando il video e non sei iscritto, qua sotto c'è una barra rossa, scritto bianco sul rosso, iscriviti. Tu. Iscriviti. Iscriviti. È gratis. Porta la fraccetta del mouse sulla scritta iscriviti, ti prego, che faremo uno speciale fighissimo, non ve ne pentirete. Grazie. Adesso potete chiudere il video.